Omicidio volontario aggravato da una relazione sentimentale e calunnia. Sono i reati che la procura di Padova contesta alla 31enne Valentina Boscaro, accusata di aver ucciso il fidanzato Mattia Caruso di 25 anni. Il Pubblico Ministero ha chiuso le indagini sul delitto che la giovane padovana commise la sera del 25 settembre 2022, quando accoltellò mortalmente, confessando il gesto, il fidanzato al cuore in auto, poco dopo essere usciti da un ristorante di Abano Terme. La Boscaro tentò anche di depistare le indagini, incolpando un uomo incontrato poco prima nel locale. La 31enne quasi di certo andrà a processo se il giudice per le indagini preliminari accoglierà la richiesta del Pubblico Ministero. Per il reato di omicidio è previsto l'ergastolo e da alcuni anni è esclusa la possibilità di celebrarlo con rito abbreviato che prevede la riduzione di un terzo della pena. Valentina Boscaro si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione in quartiere Montà. Grazie. Grazie. Grazie.